Ciao Ministro, volevo chiederti un commento su questa partita e che cos'è mancato secondo te per il pareggio, comunque. Eh, è mancato sicuramente secondo me. Vabbè, penso che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, innanzitutto. Abbiamo rischiato poco, secondo me, contro una squadra forte, una squadra che punta a vincere il campionato. Potevamo fare meglio, forse, dal punto di vista del possesso nel secondo tempo, perché potevamo crederci un po' di più. Nel secondo tempo loro, anche se si sono abbassati, avevano avuto un po' di timore di prendere il gol, si sono abbassati un po' e potevamo sfruttarlo meglio. Nel primo tempo, anche in ripartenza, potevamo fare male, andare in vantaggio a noi. Purtroppo abbiamo preso il gol su una palla inattiva, dispiace perché prendere il gol così fa male. Però sicuramente è una partita, secondo me, buona da parte dei ragazzi. Molto motivati, molto concentrati, su tutti i palloni, molto uniti, un gruppo secondo me molto unito, che può sicuramente solo migliorare. Però hanno fatto quello che ho chiesto, sono stati molto bravi, molto attenti, molto corti. Non era facile, però sapevano che comunque non era facile. Invece ci sono comparati molto bene. È chiaro che andava a casa con 0 punti e fa malissimo, però la mentalità è quella giusta. Quindi secondo te questa squadra può crescere ancora, visto anche la quantità di giovani presenti nella squadra? Beh, penso proprio di sì. Io comunque questa squadra qua ce l'ho da praticamente tre settimane. Abbiamo lavorato veramente pochissimo per ottenere determinate manovre, soprattutto in situazioni di gioco. comunque bisogna lavorare, lavorare, lavorare. Ora era importante soprattutto la mentalità. Questa l'ho vista. La squadra conammorata che era stata in partita fino all'ultimo. Quindi sono soddisfatto. Per la prestazione sono soddisfatto. Per il risultato ovviamente no. Grazie mille. Grazie mille. Buon… Buoni…